Antonio Candela è presidente dell'ASD Cantero, nuovo progetto sudamericano per la tua scuola calcio. Sì, un progetto ambizioso che è nato da un'idea di tre anni fa, che oggi finalmente stiamo concretizzando anche con l'innesso del nostro direttore generale, qui Mr. Cruz, che per chi non lo conoscesse detiene il record mondiale di palleggi. E' abbattuto anche il suo Maradona, perché è argentino, quindi alla fine è un campione mondiale e ha palleggiato più di 300.000 palleggi fatti in 16 ore e mezzo di continuo. La Rai l'ha bloccato perché questa cosa era stata fatta nel mondiale 1978, tra la Coca-Cola, è stato anche ambasciatore Unicef nel mondo per quanto riguarda i mondiali di tecnica individuale, campioni di tecnica individuale nel mondo. E quindi ho un olore di portarlo qui ad Avellino perché l'ho conosciuto a un camp del Barcellona ufficiale fatto a Napoli settimana scorsa, abbiamo avuto modo di parlare. La nostra passione che ci accomuna, abbiamo un progetto molto importante per i giovani della provincia di Avellino e non solo, perché poi il country che si ospita è una location molto importante, è una location penso la migliore che ci sia in regione Campania, mi voglio buttare oltre, quindi tendiamo a far venire qui i migliori talenti, a prepararli e portarli nel calcio che conta. Mister Cruz, ma oltre alla tecnica individuale, cosa serve a un bambino per diventare un campione? Allora il percorso formativo di un bambino che inizia l'attività sportiva è certamente la passione, che poi con la diversione che sono ingredienti fondamentali nella parte iniziale. Certamente il bambino nel momento che inizia la sua crescita si va creando delle vasi importanti, dove credo che principalmente ci sia la disciplina. E poi c'è tutto un percorso formativo dove c'è la trasformazione del bambino che si diverte al sport che lo fa con disciplina, poi passando per una fase di trasformazione a essere atleta e poi si decide con l'edà avanzata per poter trasformarsi in un campione o un campione della vita che alla fine è questo che conta sul progetto, più là di dove può giocare o dove no. Però il progetto nel quale noi stiamo fortificando qui in Avellino è un centro di formazione tecnica di abilità calcistica e coordinazione. Praticamente andiamo a fare un lavoro molto molto scrupoloso e importante per dare un contributo ancora maggiore a tutte le scuole calcio che eventualmente stanno nella provincia di Avellino, perché non siamo scuole calcio, faremo centro di formazione tecnica in modo tale di guidarla questi ragazzi a un perforzionamento tecnico che possono essere basato su qualità tecnica innata o quella creata per noi per il proprio progetto, perché alla fine con il lavoro e con una buona didattica questi ragazzi potranno veramente poter dire posso superare l'avversario, posso fare la finta di Ronaldo, la finta dei grandi campioni che oggi vediamo per TV. Antonio può essere questa la novità dell'estate dedicata ai bambini del 2021? Certo, certo. Peccato che la pandemia ci ha tenuti fermi un anno e passa, no? E quindi abbiamo detto facciamolo quest'estate perché abbiamo il tempo, il tempo è dalla nostra parte. La pandemia spero con il vaccino e con una vaccinazione di massa e con il raggiungimento dell'immunità di gregge che si potrà anche poi percorrere questo percorso settembre-ottobre andando avanti come riprendere questa vita normale. Quindi noi invitiamo tutti quanti i genitori e i bambini che si ascoltano a farci una chiamata, poi magari vi lasciamo il contatto e fissare un appuntamento per le date che noi andremo a sviluppare questo progetto. Mister, lei resterà qui luglio ed agosto, poi a settembre tornerà due volte al mese per valutare il progetto, il lavoro fatto poi in estate. Certamente, noi faremo una consulenza non solamente organizzativa di attività, sino anche di consulenza di lavoro di campo, un progetto ricco. Io partecipo a un progetto che si chiama la Football Player Evolution che ha sede a Roma, alla quale stiamo lavorando con Fabrizio Santilli, dove abbiamo una metodologia che si chiama CRZ Football 10, in onore a questo grande campione, come Diego Armando Maradona. La mia esperienza nel calcio argentino, nel settore giovanile, come anche aveva raccontato il nostro presidente, il mio record mondiale negli anni 1988, nello studio Rai, 16 ore messe a paleggiare, oltre a essere campione a 11 anni, il campionato mondial FIFA Coca-Cola, con 10 prove tecniche realizzate nel mondial 78 in Argentina. Diciamo che in questo, poi mi sono perfezionato, con diversi progetti importantissimi in un'internazionale, facendo esperienze con diversi club importanti, Arsenal, Real Madrid, Fondazione Real Madrid, Juventus Soccer Academy, e altri progetti importantissimi che fanno sì arricchire la mia professionalità. Oggi sono maestro della tecnica, voglio nominare in questo a un gran numero uno che in Italia, Ivan Sauli, dove in questo momento anche mi sono formato, anche lì come in diversa parte del mondo, acquisendo esperienze e conoscenza, per poi portare avanti un progetto vincente. Quindi Antonio, Candela, presidente dell'ASD Cantera Avellino, ti sei affidato al meglio, il numero uno della tecnica individuale mondiale, dunque Avellino, capitale della tecnica individuale. Sì, è un argentino, Maradona è il mio calciatore del mondo, Messi attualmente è lo stesso, quindi chi meglio di lui conosce i segreti del calcio. Quindi speriamo che tutti i nostri sogni diventino realtà, ma specialmente anche quelli di tutti i bambini che sognano in grande, perché se puoi sognarlo, puoi farlo. Dunque, mister, lanciamo un appello, se volete diventare campioni, venite. Campioni della vita. Campioni della vita. Diventare della vita, campioni nel gioco, a poter migliorare giorno a giorno la tecnica individuale, qui la aspettiamo, è un rilassamento all'ASD Cantera Avellino e al presidente Antonio, che mi ha messo in una condizione da non poter dire no a tan bella struttura e poi una zona ricca di calcio. Ricordo che qui in Avellino ha giocato Ramon Diaz e c'è un bel ricordo perché è stato un grande campione, anche un coetano argentino come me.